Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Sul canale Albani compare la schiuma, intervengono l'ARPAM e la Capitaneria di Porto Presentato il cartellone della nuova stagione del Teatro della Fortuna Slitta domani il recupero della barca, il monumento danneggiato la notte di San Silvestro Terminati i lavori di adeguamento all'Istituto Battisti di Fanno, adesso la scuola è antisismica Approvata in Consiglio regionale la legge per le città sostenibili e amiche dei bambini Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fanno TV, questa nuova edizione del nostro telegiornale sul canale 17 L'hanno notata in tanti, in molti, questa schiuma che galleggiava lungo il canale Albani E qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine Una strana schiuma grigiastra è comparsa nelle acque del canale Albani attorno alle 14.30 di oggi Ce lo hanno segnalato alcune persone che erano lì con i loro figli all'interno dei passeggi Poco dopo l'ora di pranzo Stavamo giocando con i nostri bambini, ci racconta una mamma Quando all'improvviso ci siamo accorti di una strana schiuma grigiastra Che è iniziata a scorrere nel canale Albani Prima più densa e fitta, poi man mano sempre più rada Fino quasi a scomparire Come se qualcuno, ci hanno detto i testimoni, avesse sversato qualcosa nel canale più a monte Il tutto è durato circa un'oretta La schiuma poi si è addensata a ridosso della diga di Cannici Che si è formata sotto il ponte storto Ignota sia la sostanza che il punto di sversamento Sul posto intorno alle 18 sono arrivati, allertati dai cittadini, tecnici dell'ARPAM Reperibili che, coordinati dalla Capitaneria di Porto Hanno prelevato campioni sia di acqua che di schiuma E che saranno poi analizzati nella mattinata di domani Nei laboratori della struttura per capire di che sostanza si tratti E quindi poter eventualmente risalire alla fonte E' stato presentato questa mattina il cartellone con la nuova stagione del Teatro della Fortuna Sarà un cartellone ricco quello della stagione teatrale 2017-2018 Della Fondazione Teatro della Fortuna Presentata stamattina in chiusura della stagione in atto Che ha visto una buona risposta del pubblico dei più giovani Un incremento sia degli abbonamenti che del numero di spettatori in sala E che da ottobre a marzo prossimi offrirà 21 serate di spettacolo Con interprete eccellenti che confermano Fano Tra le realtà di riferimento nel panorama regionale Sette spettacoli come per l'anno che si sta chiudendo Proprio oggi inizia l'ultimo spettacolo della stagione 16-17 Tanti interpreti di primo rilievo, veramente di primo piano Abbiamo tenuto conto di quello che ci hanno detto i nostri spettatori affezionati Che ci hanno seguito in tantissime di questi li ringraziamo Abbiamo tenuto conto proprio di che cosa hanno più apprezzato L'inaugurazione è l'11 ottobre con Fabrizio Bentivoglio Diretto da Michele Placido in L'ora di ricevimento Che tratta la realtà di una classe elementare nella problematica baglie di Tolosa Sarà poi la volta della prima versione teatrale del capolavoro di Umberto Eco Il nome della Rosa Con un cast di grandi interpreti diretti da Leo Muscato Scena dal 10 al 12 novembre Isabella Ferrari e Iaia Forte saranno come stelle nel buio Dal 6 all'8 dicembre sotto la regia di Valerio Binasco E poi Egno Fantastichini che sarà Reliar fino al 21 gennaio Seguendo il percorso sperimentale orientato alle nuove tecnologie di Giorgio Barberio Corsetti Il periodo carnevalesco farà spazio al musical con Manuel Frattini Che sarà Robin Hood affiancato da una delle rivelazioni televisive degli ultimi tempi Fatima Trotta, conduttrice di Made in Sud Nei panni di Lady Marian E poi un grande interprete di Casa Nostra Neri Marco Re, diretto da Giorgio Gaglione In Quello che non ho In cui si interrogerà sulla nostra epoca Tra speranze future e ansie presenti Ispirato dalle canzoni di De Andrè E dalle visioni lucide di Pierpaolo Pasolini Conclusione poi dal 16 al 18 marzo Con Lorella Cuccarini e Gian Piero Ingrassia Già coppia in gris Con una commedia ironica e passionale Diretta da Gabriele Pignotta Che ci regalerà una chiusura all'insegna del divertimento E adesso parliamo della barca Quel monumento dedicato alla marineria fanese Che dall'ultimo dell'anno, dalla notte di San Silvestro del 2016 E' ancora lì fermo in attesa di essere restaurato Restauro posticipato di qualche ora Previsto infatti per ieri e che slitta domani Per il monumento in legno Che simboleggia lo scheletro della prua di una barca Nel lungomare di Sassonia L'opera, dedicata alla vita marinara Rappresenta un segno tangibile della riconoscenza Verso uno degli aspetti più importanti nella nostra comunità Ed è inserita in una passeggiata molto suggestiva in città La barca era stata danneggiata nella notte di Capodanno Ma non sono state mai chiarite le dinamiche di quanto accaduto C'è chi parla infatti di atto vandalico, incivile e stupido E chi attribuisce il danno alla rottura dei tiranti Che la ancoravano al terreno Dovuta forse alle raffiche di vento Lo preleveremo con un camion, lo metteremo in un magazzino Sarà completamente restaurato e poi ristallato successivamente Quindi non è un'operazione banale Doveva avvenire ieri, avverrà domani pomeriggio Questa sistemazione, questo restauro Che comunque era doveroso per un monumento così importante Costerà diversi migliaia d'euro Tutto questo a causa dei vandali Che hanno deciso di colpire questo monumento in maniera insensata Ma la passeggiata infatti sarà protagonista di altri importanti interventi Questa passeggiata è stata interessata a uno stanziamento di circa 50.000 euro Per rimetterla a posto In particolare pensiamo a quegli spazi che una volta c'erano Ed erano fatti il legno dove la gente si poteva sedere Li recupereremo Sostituendo il legno con altri materiali Quindi facendo un salottino Allora oggi ci sono state diverse scosse di terremoto Nelle Marche Da 3.6 Quella delle 16.35 In particolare in provincia di Macerata Ovvero a Fiastra E a proposito di terremoto Ci sono buone notizie invece Perché a Fano La scuola, l'istituto commerciale Tecnico commerciale Battisti Ha ricevuto nei giorni scorsi Il certificato di adeguamento antisismico Con cinque mesi di anticipo Conclusi al Battisti I lavori di efficientamento energetico Ed adeguamento antisismico 1.200.000 euro di risorse ministeriali Assegnate alla provincia Dalla regione Marche Sono stati così impegnati Per effettuare questo intervento strutturale Presidente, allora L'adeguamento sismico Quello degli nostri edifici scolastici È diventato quantomai un argomento importante Che sta a cuore a tante persone Ma è un argomento importante Soprattutto perché quotidianamente Nel nostro territorio provinciale Abbiamo 15.000 studenti Che sono iscritti al ciclo di secondo grado E la priorità, la sicurezza È una delle situazioni principali Che dobbiamo tenere all'interno delle scuole Alla cerimonia di consegna Del certificato antisismico Alla preside dell'istituto Anna Gennari Che per questo suo nuovo status È divenuto di strategica importanza Anche per ospitare evacuati In caso di calamità Funzionari regionali La regione e il governo Hanno sempre indicato La sicurezza nelle scuole Come uno degli obiettivi primari E oltre alle fondi Che sono stati stanziati Per la ricostruzione Nei comuni del tracratere Non solo Anche gli edifici danneggiati Che sono al di fuori del cratere In primis Le strutture scolastiche In aggiunta a questo L'osservatorio ha annunciato Che il MEF Ha stanziato sulla finanziaria 2017 1 miliardo e 700 milioni di euro Su base nazionale ovviamente Preside allora Una mattinata intensa Per diverse motivazioni Ma soprattutto anche per gli studenti Una festa in tutti i sensi Certo Oggi veramente questa duplice occasione Per accogliere i partner stranieri Di questo importante progetto europeo Questo progetto Erasmus Che tratta appunto Delle energie rinnovabili Quindi una tematica direi Molto importante e significativa E inoltre appunto L'inaugurazione di questo istituto Che ha subito questi importanti lavori Di adeguamento Sia dal punto di vista sismico Sia dell'efficientamento energetico Che hanno riqualificato E permettono agli studenti Quindi di vivere anche In un ambiente sicuramente sicuro E anche diciamo appunto Gradevole Nell'aula magna Dell'istituto Fresca di rinnovo Con infissi speciali Ad alte prestazioni energetiche Materiali isolanti E lampade a led Alla presenza del vice sindaco Stefano Marcheggiani Si è tenuto il primo incontro Del progetto Erasmus Plus Riguardante proprio Il tema delle energie rinnovabili Dove gli studenti Del Battisti Hanno incontrato I coetanei Di Spagna Francia Polonia E Romania Per questo progetto Partito lo scorso anno In effetti questo progetto Riguarda in modo particolare La partecipazione Ai dei corsi Riguardanti le energie rinnovabili I paesi coinvolti Sono la Romania Che è la scuola L'istituto a capofila Inoltre Noi logicamente Che rappresentiamo l'Italia La Spagna E la Francia Pensate Con questa bellissima isola Che è la Corsica E inoltre L'altro stato E la Polonia Ed ora Questa qui È la volta dell'Italia Il tutto si concluderà A giugno E andremo In In Romania Oggi in Consiglio regionale Invece C'è stata L'approvazione Di una legge Sulle città Sostenibili E amiche Dei bambini Città sostenibili E amiche Dei bambini In tutte le marche E questo L'obiettivo Della legge Approvata oggi Dall'Assemblea Legislativa La legge Di cui Minardi È stato Relatore Di maggioranza Prevede Che i comuni Dovranno Realizzare E focalizzare L'attenzione Su nuove esperienze Di cittadinanza Attiva Interventi Di riqualificazione Urbana Che abbiano come riferimento Le esigenze Dei più piccoli Quelle che saranno Valutate positivamente Potranno accedere Ad una banca dati Ed essere Annoverate Tra le buone pratiche Da promuovere Con la collaborazione Di enti Istituti scolastici Ed associazioni In occasione Poi della giornata Internazionale Dell'infanzia Prevista per il 20 novembre L'ufficio Di presidenza Del consiglio regionale Di intesa Con il garante Assegnerà il logo Città sostenibile Amica dei bambini Alle amministrazioni Che avranno Adottato politiche A favore dei minori L'esperienza di Fano Che ha dal 1991 Messo in campo Il laboratorio Fano Città dei bambini Viene stesa A tutta la nostra regione L'obiettivo È quello Della riqualificazione Urbanistica L'obiettivo È quello Di creare Una mobilità Sostenibile Il rispetto Dell'ambiente Su cui i bambini Sono molto attenti Quindi l'approvazione Di questa legge Dà la possibilità Ai comuni Di freggiarsi Di un logo E quindi di avere Un logo Di riconoscimento Che potrà essere Utilizzato In ogni iniziativa Di comunicazione L'obiettivo della legge È quello Di finanziare Progetti Che non sono Eventi singoli Ma una filosofia Un percorso Un processo Che vuol dare Alle città La possibilità Di essere Città amiche Dei bambini E degli adolescenti Con un fuori programma Il magistrato Nicola Gratteri Procuratore Della Repubblica Di Catanzaro Ha affiancato Questa mattina Lo scrittore Antonio Nicaso Nell'incontro previsto Nella sala del Consiglio Provinciale Nell'ambito Della rassegna Di letteratura Per ragazzi Adotta l'autore Patrocinata Dal Ministero Della Pubblica Istruzione La mafia La mafia è come Un ragno Che tessi a una tela Detto Nicola Gratteri Rispondendo ad un bambino Che gli chiedeva Una similitudine Questa tela La porta A contatto Con tante persone Che sono estranee All'ambiente mafioso Come politici Imprenditori Di cui però I mafiosi Hanno bisogno Come l'aria Per espandersi Nicaso E Gratteri Sono poi tornati A parlare Di un tema Quello del bullismo Che hanno associato Più volte Al comportamento Mafioso Se vedete Un vostro compagno Di scuola Vittima del bullismo Non dovete girarvi Dall'altra parte Ma dovete Protestare Tra poco Dopo di noi C'è uno speciale Tematico Sulla Pasqua Noi ci fermiamo qui Grazie per aver seguito Occhio alla notizia Ci vediamo domani mattina Alle 7.30 Con la rassegna stampa Occhio ai giornali Buona serata a tutti Buona serata a tutti